Buongiorno da Edo, notizia fresca che ci vuole peraltro in questo periodo, AWS ci regala un nuovo design system open source, ve lo faccio anche vedere, eccolo qua, è Cloudscape, è un design system lanciato ieri e cosa ci offre? Ci offre una libreria di componenti, ci offre quello che ci aspetteremo da un design system, quindi una serie di componenti, sono componenti che sono realizzati in React, quindi se avete un'applicazione in React potete integrarli proprio direttamente, questa è la classica collezione di componenti, naturalmente sono responsive, hanno dark mode, hanno tutta una serie di icone personalizzate, create appositamente da AWS per Cloudscape, hanno un occhio naturalmente all'accessibilità e quindi sono naturalmente componenti pensati anche per le applicazioni cloud e per il contesto d'uso in cui sono nati, che fondamentalmente è quello delle dashboard di AWS, quindi se avete familiarità con le dashboard di AWS potrete già trovare della familiarità in questi componenti. Ci sono anche dei pattern molto carini, cioè ti danno dei consigli, delle istruzioni per generare dei pattern utili sull'applicazione, naturalmente combinando proprio i componenti che lo stesso design system offre e poi delle demo di pagine complete, dove tutti questi componenti, questi pattern, queste icone e le altre funzionalità sono integrate. C'è la pagina web che poi vi lascio il link con le feature principali, naturalmente la pagina GitHub dove tutto questo è stato reso open source, quindi grazie a AWS è un bel regalino, mi sembra anche un bel design system. Chiuderei la giornata, il buongiorno con una notizia calda, effettivamente è calda perché proprio il calore ha causato gli outage, due outage ieri in UK, uno per Oracle Cloud e uno per Google Cloud. Le temperature esagerate hanno portato prima Oracle e poi Google a dover spegnere due server farm perché i sistemi di raffreddamento non ci stavano dietro, quindi per evitare danneggiamenti all'hardware si sono viste costrette proprio a spegnere grosse parti di queste infrastrutture. Quindi i clienti che hanno dei sistemi, delle virtual machine, comunque dei servizi in quella zona dell'Europa, si sono visti cessare il servizio e hanno sperimentato degli outage. Questa è la notizia invece, vedi, per chiudere in bellezza questo buongiorno, vi lascio tutti i link, vi lascio al resto della settimana naturalmente ancora in freschezza e basta, vi saluto. Devo lavorare un po' su questi finali, vero? C'hai ragione, ma domani vedrai che è meglio. Ciao.